Siamo a Taranto, davanti all'Ilva. Sulla città, a quest'ora, sta per calare il sole. È l'ora del tramonto. Così come sta tramontando la vita sulla città di Taranto, a causa di un provvedimento del governo, il nono decreto salva Ilva, che, lo posso dire senza tema di smentita, è un provvedimento assassino. Perché dico questo? Perché il termine ultimo di realizzazione delle prescrizioni previste dall'AIA slitta al 31 dicembre 2016. Il che significa che questo rinvio, questo ulteriore ennessimo rinvio, provocherà ulteriori malattie legate all'inquinamento, ulteriori ammalati di cancro e, purtroppo, ulteriori morti. Ecco perché è un provvedimento assassino. È un provvedimento che calpesta la legge, calpesta le normative europee. Infatti la comunità europea vieta gli aiuti di Stato alle imprese private. E in questo caso c'è un prestito ponte di 300 milioni di euro per l'Ilva. Altra cosa strana è prevista la possibilità ai privati che entreranno in Ilva di modificare il piano ambientale in rapporto a quello industriale. È un'espressione, è una previsione, è una disposizione davvero pericolosa perché non ci dà garanzie. Potremmo avere un'ambientalizzazione subordinata, ridotta ai minimi termini, a favore sull'altare del piano industriale. Quindi un'ambientalizzazione che può essere davvero ridotta a poca cosa pur di realizzare, di assecondare il piano industriale. C'è poi la possibilità per i privati di acquisire quote dell'Ilva entro il 30 giugno 2016. Non bastavano otto decreti, siamo arrivati al nono decreto per tenere in piedi un mostro, un mostro che uccide, per tenere in piedi un mostro che è condannato dal mercato. Noi sprechiamo soldi, danaro pubblico per tenere in piedi una struttura che provoca morte e che non produrrà più reddito, non produrrà più economia, non produrrà più lavoro. Grazie governo Renzi, grazie per questo ennesimo regalo di morte che ci state facendo. Svegliamoci tarantini, ribelliamoci civilmente e democraticamente. Non permettiamo che noi e i nostri figli a Taranto continuiamo a morire.